allora direi che possiamo iniziare eh buongiorno a tutti sono Kevin Samuele Norris eh faccio parte dell'ufficio tecnico di Frascold lavoro in Frascold al duemiladiciassette e mi sono occupato lungamente dello sviluppo del software di selezione e al momento tra le tra le varie cose sono volume eh non si sente? Lo avvicino? Ok. Meglio? Mi sentite meglio? Ok. E tra le varie cose eh mi occupo principalmente della di selezioni speciali quindi di selezioni non utilizzando software di selezione per refrigeranti magari particolari e applicazioni particolari. Oggi eh dopo una breve presentazione di Frascold eh mi mostrerò diciamo i due principali metodi di selezione di un compressore utilizzando il software di selezione e come leggere la targhetta del compressore per capire sul campo le varie possibilità che si possono avere per sostituire il compressore senza altri mezzi. Un excursus su cosa abbiamo a disposizione per i refrigeranti alternativi e poi andremo a vedere diciamo nella pratica il software eh come come si compone e e poi ovviamente sarò aperto a qualunque domanda e qualunque magari anche ipotesi di selezione sia in questa finestra temporale se invece andiamo un po' lunghi magari mi trovate allo stand Frascold per qualunque domanda o ipotesi di selezione. Giusto due parole eh su Frascold. Frascold è un'azienda attiva nel settore della refrigiazione e il condizionamento dal 1936 quindi quasi novant'anni di attività in questo settore. Eh l'headquarter si trova poco fuori Milano a Rescaldina ed è l'unico impianto di produzione. Poi abbiamo altre sedi diciamo sales company negli Stati Uniti in India e in Cina. Eh la capacità produttiva è intorno ai settantamila compressori l'anno e dipendenti diciamo worldwide quindi in tutti sia comprese le le sussidiarie siamo intorno ai duecento dipendenti. Come detto lo strumento principale per selezionare un compressore è rappresentato da software di selezione che è liberamente scaricabile dal nostro sito web eh e installabile senza nessuna problematica. Eh cosa fornisce il software di selezione? Eh di base fornisce tutti i limiti operativi che quel compressore con quel refrigerante ha espressi in termini di temperatura di evaporazione e temperatura di condensazione. Quindi sapendo il punto di applicazione in cui si vuole operare con quella unità condensatrice, quel rack, quel chiller e il refrigerante prescelto con il software di selezione si può sapere se siamo all'interno del campo operativo accettato o se siamo all'esterno. Ovviamente i campi operativi dichiarati sul nostro software sono conservativi ovvero sono dei campi in cui noi garantiamo funzionamento nel compressore e garantiamo le prestazioni. Eh al di fuori di questo campo di dichiarato c'è un margine di operabilità però questo margine va valutato chiaramente con noi internamente. È una delle cose di cui mi occupo quindi se doveste avere bisogno di fare qualche selezione per esempio a temperature di condensazione magari molto alte o di evaporazioni molto alte uscendo dal campo diciamo che se ne può parlare. Viene dichiarata la capacità di raffreddamento che diciamo è quello che ci interessa oppure la capacità in caldo se dovesse essere una pompa di calore. Dati operativi con tutti i refrigeranti. Eh ovviamente nel software non abbiamo tutti i refrigeranti possibili ma abbiamo tutti i refrigeranti comunemente utilizzati. Eh poniamo molto interesse ad aggiornare la lista dei refrigeranti approvati con i vari con i vari compressori quindi anche i nuovi blend per esempio HFO li trovate già all'interno del nostro software quindi con i nostri prodotti già approvati per uso con HFO blend per esempio oppure col propano col con l'isobutano con l'R600A. Le prestazioni sono dichiarate anche secondo i vari i vari standard. Lo standard che utilizziamo normalmente è la N12009 che praticamente è lo standard per il quale il mercato diciamo dei compressoristi utilizza per dichiarare le prestazioni. C'è anche tutta una sezione di informazioni tecniche aggiuntive quali per esempio vedremo dopo carica di olio, le connessioni, le i vari dati elettrici del motore e altre informazioni. I disegni tecnici in 2D che potrebbero essere necessari per capire quali sono le dimensioni del compressore, dove sono posti collegamenti, i piedini, capire quindi come assemblare la macchina. Il link ai manuali tecnici soprattutto sottolineo quelli di installazione e manutenzione nei quali ci sono tutte le informazioni proprio per come eh fare la il primo avviamento del compressore nella macchina e la lista di cataloghi quindi la la documenti 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 un po' più commerciali e le certificazioni quindi tutte le certificazioni per cui i nostri compressori eh che abbiamo abilitato per i nostri compressori. Quindi software di selezione abbiamo due principali metodi di calcolo. Il calcolo di verifica e il calcolo di selezione. Eh il calcolo di verifica quando va deve essere utilizzato. Può essere utile utilizzarlo quando si ha già per esempio un compressore in magazzino oppure si vogliono verificare le prestazioni di un compressore già in funzionamento magari in altre condizioni operative. Magari abbiamo fatto la selezione per il punto di design quindi estate con trentacinque gradi ambiente si vuole verificare per esempio in una condizione diversa magari in inverno con la temperatura dell'aria diversa e quindi una condensazione più bassa se per esempio in parzializzato eh la capacità minima è poerente con quella che vogliamo avere nel nostro impianto. Diversamente il calcolo di selezione diciamo è un calcolo un po' più basico. Eh noi chiediamo al software la capacità frigorifera o in heating che vogliamo e il software ci consiglia e nelle condizioni eh chiaramente che vogliamo che vogliamo ottenere e il software ci consiglia eh il compressore o i compressori adatti per questo scopo. Eh vediamo per primo la il calcolo di scelta. Non so se si vede sì si vede. In alto a destra c'è proprio la selezione calcolo di scelta. Calcolo di scelta. Come vedete il software si compone un po' a blocchi. Il blocco che ho riquadrato in addurro è il blocco degli input in cui praticamente si può scegliere che tipo di impianto vogliamo fare quindi se ci interessa una pompa di calore o un sistema di ehm refrigerazione o aria condizionata. Il refrigerante è la secondo è il secondo box con tutta la lista dei refrigeranti approvati per la famiglia di compressori che abbiamo selezionato. In questo caso la famiglia selezionata è i compressori semi ermetici a pistoni e la temperatura di riferimento. La temperatura di riferimento diciamo è utile soprattutto se vengono selezionati dei refrigeranti col glide perché può avere senso riferirsi non a temperatura di rugiada ma una temperatura media come sapete con i con i refrigeranti col glide al passando dal lato vapore al lato liquido c'è un cambiamento della temperatura alla stessa pressione per cui di solito dipende un po' da come si è abitato a fare i conti però di solito è più ehm realistico fare un un controllo con la temperatura di riferimento media invece che la temperatura di riferimento di rugiada però è soltanto una questione di riferimento entrambe le selezioni sono corrette. Poi finiamo in questa in questa fase eh nel box sottostante a indicare le eh condizioni di riferimento le condizioni che ci interessano eh nella parte a sinistra sono diciamo le condizioni di aspirazione nella parte destra le condizioni eh di mandata. Come condizioni di aspirazione possiamo definire chiaramente la temperatura di evaporazione e il surriscaldo e quale quota di questo surriscaldo va a contribuire ad avere effetto utile. Come sapete il surriscaldo può essere eh realizzato nell' evaporatore e questa è la parte diciamo utile che va a concorrere alla capacità frigorifera del del sistema oppure una porzione può essere realizzata all'esterno del dell'evaporatore e questa diciamo possiamo considerarla come una perdita nel senso è una quota di evaporazione di surriscaldo che non dà un contributo effettivo alla potenza dell'evaporatore alla capacità dell'evaporatore. Tale capacità può essere considerata tale surriscaldo può essere considerato come una perdita perché per esempio magari i tubi non sono isolati bene oppure magari in un impianto di rifrigerazione i tubi hanno una lunghezza magari importante magari centinaia di metri e chiaramente eh questa porzione di surriscaldo non può essere non considerata. Se invece consideriamo un sistema eh ridotto quindi molto compatto è difficile che questa magari è pure isolato è difficile che la componente non utile del del surriscaldo possa essere quantificata. Eh lato di destra abbiamo quindi la la temperatura di condensazione del nostro impianto e il sotto raffreddamento. Eh possiamo definire eh o il sotto raffreddamento oppure direttamente la temperatura del liquido. Chiaramente l'informazione è la stessa però in base all'informazione che abbiamo o come siamo comodi a chiedere a dare l'informazione al software possiamo averlo in entrambi i modi. Quindi quanti sono i Kelvin di sotto raffreddamento che prevediamo di avere nel condensatore oppure eh quant'è la temperatura del liquido che pensiamo di alimentare la valvola di espansione. Eh nella parte alta mi sono perso l'alimentazione elettrica. Quindi diciamo abbiamo l'alimentazione che mh può essere data al compressore quindi che può essere quattrocento trifase cinquanta che diciamo è quella un po' più utilizzata in Europa in questi contesti oppure se si utilizza qualcosa nei Stati Uniti per esempio quattro e sessanta trifase sessanta comunque in quel box in quella eh finestra scorrimento abbiamo solo le alimentazioni diciamo utilizza eh disponibili per quel compressore. Quindi se trovate se si riuscite a fare una selezione con quell'alimentazione all'interno del software vuol dire che quel compressore è disponibile con quel tipo di alimentazione. Eh sempre in questo box importantissima è la capacità frigorifera. Siamo in modalità scelta selezione come dicevo noi forniamo le condizioni al contorno che ci interessano per la selezione e la capacità frigorifera che ci interessa. In questo caso abbiamo scelto cinque kilowatt. Lo vedo un po' piccolo però sì sono cinque kilowatt. Cinque kilowatt cinque kilowatt richiesti di capacità frigorifera. Quindi il software in questo caso avendo dato queste condizioni che sono meno dieci quarantacinque con dieci dieci capo dieci Kelvin di surriscaldo e dieci Kelvin e zero Kelvin di sottoraffreddamento ci fornirà il compressore che ci permette di avere cinque kilowatt almeno cinque kilowatt in queste condizioni. Ecco il software sceglie il compresso il primo compressore quindi il compressore più piccolo che che permette di fornire almeno la capacità richiesta. Quindi sicuramente fornirà qualcosa in più di cinque kilowatt come capacità di refrigerazione. Come vedete infatti la riga in cui eh c'è la selezione del compressore che è appena sotto quelle che abbiamo visto di ehm selezione delle condizioni al contorno è annerita, è grigia perché non abbiamo la possibilità di scegliere il compressore perché è direttamente il software che ci seleziona il modello adatto. Quello che possiamo fare è scegliere il numero di compressori che abbiamo perché che vogliamo avere perché ovviamente quei cinque kilowatt noi possiamo prevedere di fornirli con un compressore o magari con due compressori. Altra scelta che si può fare se vogliamo avere un compressore a velocità fissa quindi diciamo banalmente non alimentato con un inverter oppure un compressore a velocità variabile quindi alimentato con un inverter oppure una combinazione dei due. Eh può essere il caso per esempio magari di un rack di tre a quattro compressori in cui magari per raccordare i passaggi e il eh il part load la parzializzazione può essere necessario per esempio magari mettere eh un solo compressore con inverter che permetta di passare con la sua variazione in frequenza dal minimo al massimo passare da eh un compressore acceso e trenta e settanta eh che è tutto il lo spettro di variazione di frequenza del compressore prima di accendere il secondo compressore quindi per fare dei passaggi un po' lineari può essere una soluzione quindi possiamo scegliere di fornire eh in un unico livello diciamo più di un compressore questa è la scelta che possiamo fare in fase di di scelta nella parte bassa quindi sotto l'input eh abbiamo il campo di applicazione come vi dicevo quello che vedete in in grigio è il campo di applicazione approvato per questo compressore eh con il refrigerante scelto eh in questo caso il refrigerante dell'esempio è un quattro quattro otto a e eh come vedete il software ha selezionato un compressore di due undici punto uno y ovvero ha valutato che in quelle condizioni per avere cinque kilowatt almeno cinque kilowatt di capacità frigorifera il compressore più piccolo adatto era quel compressore ci ha messo in basso il campo di applicazione approvato che eh ok eh per farci capire in che condizioni siamo in questo caso meno dieci quarantacinque è un è un punto tipico diciamo di media temperatura e quindi finisce vedete il puntino rosso in mezzo al campo diciamo è una condizione molto molto facile diciamo in cui quasi tutti i compressori sono studiati per lavorare con il quattro cinque quattro quattro otto a eh nel campo di applicazione vedete anche inoltre una eh area colorata in azzurro chiaro quest'area è l'area in cui è consigliata utilizzare un sistema di raffreddamento della temperatura di mandata come sapete ad alti rapporti di compressione quindi con evaporazione bassa e condensazione alta quindi nella zona in alto a sinistra del campo dell'applicazione eh la problematica principale è la temperatura di scarico che si alza eh quindi in quella zona del campo che può essere un'area più o meno grande in base al refrigerante in base al compressore eh consigliamo di utilizzare un sistema di raffreddamento eh della mandata questa eh area è definita chiaramente alle condizioni della norma è in 12.9009 quindi se si lavora in una condizione diversa potrebbe essere che non è necessario utilizzare un metodo di raffreddamento delle teste eh quindi consiglio sempre di guardare la temperatura di scarico e le note che escono abbiamo fatto in modo che il software dia sempre delle indicazioni in caso di ehm necessità di avere eh un occhio di riguardo su determinati parametri uno di questi è la temperatura di scarico per i compressori a pistoni tendenzialmente il limite che consigliamo per lavorare in condizioni continue sono centoventi gradi quindi se eh anche se siete in quella zona del campo eh dell'area azzurrina ma per esempio avete un surriscaldo basso può essere può essere che la vostra temperatura di scarico non raggiunga il cento venti quindi non in quel caso non è necessario utilizzare un sistema di raffreddamento teste che può essere se la temperatura di scarico non è troppo alta quindi diciamo è necessario abbassarla di un dieci quindici k potrebbe andare benissimo un vento ai testata che più o meno abbassa di quella temperatura oppure se chiaramente la temperatura di scarico prevista è più alta di questi dieci quindici k bisogna cominciare a pensare prima di tutto vedere se c'è possibilità di abbassare il surriscaldo se non è impossibile perché siamo abbiamo già un livello di surriscaldo abbastanza basso si deve cominciare a pensare di fare un iniezione di liquido per abbassare la temperatura di mandata le note di solito appaiono in quell'area grigia a destra del del campo di applicazione quindi tutta quell'area vuota eh quando c'è necessità di avere un warning di solito appare in quella zona lì nella parte bassa appena sotto i warning abbiamo tutte le certificazioni che questo compressore può avere per esempio come sapete noi facciamo parte anche dell'Azercom che è la diciamo società europea che raccoglie tutti i produttori di compressori di unità diciamo è un po' il partner europeo del del settore e diversi compressori eh sono certificati ASERcom cosa vuol dire tutti i certi compressori certificati ASERcom le prestazioni di questi compressori non sono solo certificati da noi internamente ma sono certificate anche dall'Azercom questo vuol dire che un nostro compressore a campione ogni tanto viene testato dai nostri concorrenti che devono trovare le prestazioni in linea con quelle che dichiariamo noi quindi tutti i compressori che voi vedete col logo ASERcom nella zona delle certificazioni diciamo la validità delle prestazioni non è dichiarata soltanto da noi ma è dichiarata anche da un ente terzo formalmente anche dai nostri concorrenti quindi diciamo l'attinenza rispetto alla realtà è ancora maggiore nel lato tutto a destra che ho cerchiato con quel quel riquadro più scuro eh sono gli output ovvero tutte le informazioni che eh il software fornisce relativo a questo compressore in quelle condizioni quindi la prima cosa che vedete è il modello di compressore selezionato la capacità frigorifera eh la capacità dell'evaporatore eh il COP la corrente la ci ricorda qual è l'alimentazione che abbiamo scelto la temperatura di scarico guardiamole nel dettaglio nella slide dopo quindi diciamo giusto per capire quali sono i parametri che bisogna tenere conto per riuscire a fare una selezione dobbiamo avere sotto mano gli input quali sono gli input la capacità frigorifera target noi dobbiamo sapere qual è la capacità frigorifera che ci serve quindi dobbiamo dimensionare una un sistema frigo che alimenti una cold room dobbiamo fare il conto e capire quant'è la capacità frigorifera che ci serve per la cold room questa capacità target dobbiamo avercela dobbiamo avere già un'idea del refrigerante che vogliamo utilizzare dell'alimentazione elettrica che avremo a disposizione quindi se si è in base all'area geografica in base a la tipologia di sistema dobbiamo sapere qual è l'alimentazione elettrica che abbiamo che abbiamo a disposizione e le condizioni operative come dicevo temperatura di operazione a temperatura di condensazione sul riscaldo all'aspirazione o temperatura di aspirazione sotto raffreddamento o temperatura del liquido e chiaramente dobbiamo avere un'idea di quanti compressori vogliamo utilizzare per quel rec o quel sistema sia a velocità fissa sia a velocità variabile il software in output cosa ci dà la capacità frigorifera effettiva che può essere eh quella diciamo puntuale oppure quella di riferimento quella di riferimento è sempre quella riferita alle condizioni di norma la riportiamo sempre perché la coincide con quelle che trovate nei cataloghi tutte le capacità frigorifere che trovate nei nei vari cataloghi di tutti i costruttori sono sempre riferite la N12009 è per quello che ci facciamo sempre a questa norma proprio per rendere confrontabili tendenzialmente i cataloghi principalmente quali cartacei dei vari produttori la capacità all'evaporatore eh se il surriscaldo utile è eh corrisponde a tutto il surriscaldo non c'è differenza tra la capacità frigorifera e la capacità all'evaporatore se invece il surriscaldo per esempio metà del surriscaldo è fatto nell'evaporatore e metà del surriscaldo è considerato non utile eh avremo una differenza tra la capacità frigorifera effettiva e la capacità all'evaporatore ovviamente la capacità all'evaporatore sarà quel sarà quella più piccola perché considera un delta entalpia più piccolo e sarà quella che dobbiamo considerare per la selezione la capacità al condensatore che diciamo è calcolata con la termodinamica quindi banalmente la somma tra la capacità assorbita elettrica del compressore più la capacità frigorifera che può fornire e se utilizziamo la modalità pompa di calore ovviamente la capacità al connessatore sarà il nostro eh il nostro auto che ci serve perché ci serve la capacità di caldo che può fornire il sistema la corrente assorbita il COP del sistema la portata massica del refrigerante eh la temperatura di scarico come vi dicevo è buona norma tenere in considerazione per le varie considerazioni sulla ehm se vale la pena o no eh raffreddare le teste e come dicevo eventuali avvisi o indicazioni operative eh quella principale la sua temperatura di scarico magari suggerisce di aumentare il surriscaldo per qualche applicazione per esempio che potrebbe essere col propano eh per la stabilità dell'olio cose di questo tipo eh giusto un esempio pratico per avere un'idea di cosa di come si può fare eh vogliamo realizzare un sistema da sessanta kilowatt di capacità frigorifera richiesta con propano quindi R290 con temperatura di evaporazione eh zero gradi temperatura di condensazione a sessanta gradi su riscaldo in aspirazione di dieci K e sotto raffreddamento del liquido zero zero K questa potrebbe essere magari una tipica applicazione da pompa di calore ad alta temperatura per esempio che produce acqua intorno ai cinquantacinque gradi eh ipotizzando un'evaporazione zero in un eh in un clima diciamo inverno ma non pieno inverno inseriti questi eh input nel software eh faccio un un ingrandimento nella parte in alto a destra si vede che il software in queste condizioni ci fornisce il modello di di compressore che ci fornisce almeno poi sessanta kilowatt eh quindi in base alle condizioni operative il software seleziona uno Z40126XH che è un compressore sei cilindri quindi tre teste eh in versione Atex ovviamente abbiamo chiesto eh una selezione con R290 propano che è un fluido infiammabile eh il primo consiglio che diamo è utilizzare un compressore certificato Atex poi ovviamente in base al risk assessment del cliente in base quindi al risk assessment che potete fare si può valutare se utilizzare un compressore Atex o un compressore non Atex. Noi non conoscendo l'installazione al risk assessment diciamo ci mettiamo dalla parte della ragione la parte più sicura e quindi consigliamo un compressore Atex. Altra modalità di calcolo il software diciamo è sempre lo stesso però nella parte in alto in alto a destra vedete che è spuntato calcolo di verifica e non calcolo di scelta. Con calcolo di verifica dicevo che viene utilizzato principalmente se per esempio dobbiamo realizzare un sistema e abbiamo già il compressore a magazzino quindi vogliamo vedere se il compressore che abbiamo già in magazzino è adatto per quel tipo di applicazione oppure banalmente dobbiamo ordinarlo in alto oppure sono cambiate magari un po' le condizioni operative perché per vari motivi dobbiamo abbassare per esempio la temperatura di evaporazione rispetto a quella che immaginavamo e dobbiamo valutare se la capacità fornita dal compressore è adeguata oppure banalmente proviamo quel compressore per un refrigerante questo refrigerante magari nell'area geografica in cui ci troviamo non può più essere utilizzato e vogliamo valutare se magari passando a un nuovo refrigerante il modello di compressore adatto per quell'applicazione può essere lo stesso o no gli input sono gli stessi quindi non vi annoio molto come avete visto nel box dell'alimentazione non c'è più la capacità frigorifera target questo perché in questo caso noi sceglieremo il compressore e il software ci darà la capacità frigorifera diversamente da prima che sceglievamo la capacità frigorifera e il software ci dava il compressore quindi come vedete il punto applicativo si determina nello stesso modo tutte le condizioni di aspirazione tutte le condizioni in mandata in questo caso però nella riga del compressore è tutto in grigio chiaro questo vuol dire che noi possiamo selezionare il modello di compressore che vogliamo mettiamo il numero di compressori che vogliamo sia fisso che variabile e eventualmente possiamo scegliere anche il grado di parzializzazione sui compressori a pistoni in base al numero di teste che hanno avranno diversi step di parzializzazione meccanica oppure selezionando il compressore a velocità variabile quindi con inverter potremo determinare direttamente la frequenza che ci interessa per esempio questa potrebbe essere anche un'altra selezione abbiamo fatto la selezione con il calcolo di scelta e vogliamo verificare poi se quel medesimo compressore magari a velocità variabile passando da 50 a 70 hertz che assorbimento a per esempio 70 hertz per capire magari anche se la dimensionamento della parte elettrica è sovrabbondante oppure scarsa parte degli output uguale quindi abbiamo tutte le informazioni che avevamo nel calcolo di scelta l'unica cosa che cambia come detto prima è l'approccio iniziale riepilogando abbiamo refrigerante in questo caso non la capacità frigorifera target alimentazione elettrica condizioni operative numero di compressori e gli output sono i medesimi quindi capacità frigorifera o heating potenza assorbita capacità l'evaporatore capacità condensatore e eccetera eccetera un esempio pratico che è giusto per capirci abbiamo in casa un V20 84 AXY e vogliamo capire se è adeguato per una capacità frigorifera richiesta di circa 33 kilowatt con il refrigerante R455A quindi in questo caso magari utilizzavamo 404 fino a ieri e ad oggi vogliamo vedere se lo stesso compressore e nelle stesse condizioni con il 455 ci fornisce la stessa capacità frigorifera le condizioni ho scelto le condizioni ancora molto simili e molto comuni quindi sempre meno dieci gradi evaporazione 45 gradi di condensazione 10 K su riscaldo e zero K di sotto raffreddamento inseriamo l'input del software e il software ci riverifica il V20 84 e guardando la prima riga quindi la capacità frigorifera vediamo che questo compressore in quelle condizioni fornisce circa 36 kilowatt di capacità frigorifera che è più di quello che volevamo volevamo 33 kilowatt di capacità frigorifera meno 10 45 questo compressore con le R455A fornisce 36 kilowatt quindi è adatto alle condizioni che immaginavamo nel software abbiamo oltre alla possibilità di selezionare il compressore e verificare le condizioni operative in altro di tutti i compressori in fuori diciamo dal design abbiamo la possibilità come dicevo in introduzione di avere anche altre informazioni aggiuntive sempre sulla riga del compressore di fianco al nome del compressore c'è quel bottone info che vedete evidenziato in giallo cliccando su info si apre un'altra finestra nel quale ci sono dati aggiuntivi possono essere dati di resa espressi in modalità tabella dopo magari aprendo software ve lo faccio vedere in maniera eh più dettagliata se si vuole creare una tabella a diverse evaporazioni diverse condensazioni eh con questo bottone si possono creare eh abbiamo tutti i limiti operativi abbiamo le caratteristiche tecniche quindi abbiamo l'MRA abbiamo l'RRA abbiamo la carica di olio quindi sappiamo quanti litri d'olio con quanti litri d'olio è precaricato il compressore che tipologia di olio è eh il peso se abbiamo vogliamo avere un'idea di quanto pesa il compressore è riportato il peso e tutte queste informazioni diciamo complementari che possono servire velocemente abbiamo inoltre le polinomiali eh spesso eh soprattutto quando un cliente vuole o ha già un software di selezione interno che simula il funzionamento dell'intero chiller per esempio quindi ha le curve del condensatore alle curve dell'evaporatore al funzionamento magari anche carichi parziali della valvola di espansione per esempio eh può inserire le curve polinomiali del compressore eh di fatto sono dieci coefficienti per ogni grandezza quindi dieci coefficienti per la capacità frigorifera dieci coefficienti per la corrente dieci coefficienti per la potenza assorbita che inseriti in una semplice polinomiale forniscono eh il risultato per esempio la capacità frigorifera dipendente dalla temperatura di evaporazione e dalla temperatura di condensazione quindi diciamo con soli due parametri indipendenti abbiamo eh il valore eh variabile della del del parametro che vogliamo eh le dimensioni abbiamo il disegno 2D di tutti i compressori con le dimensioni di massima quindi anche la posizionamento dei piedini il posizionamento relativo eh dei rubinetti per avere un'idea di come per esempio far arrivare le varie tubazioni dove fissare eh il basamento dove mettere i piedini ehm i vibration dumpersi eh antivibranti e informazioni di questo tipo. Eh da ultimo c'è la lista di tutti i componenti nell'ultima tab quella documentazione c'è la lista di tutti i documenti che si riferiscono a quel compressore quindi senza diciamo perdere tempo sul sito a vedere tutti i documenti eh fare una ricerca un po' più lenta qui c'è la lista con il link diretto al pdf diciamo così del varie del manuale relativo a quel compressore eh oppure certificazioni al eh l'attestato di rischio a ATEX eh tutto quello che è relativo al singolo compressore se non si ha a disposizione il software di selezione ma diciamo si vuole fare una sostituzione un po' più smart un po' più veloce sul campo quindi con un sistema che magari eh funziona da anni e magari non si sa neanche bene qual era la capacità prevista per quel compressore ma si sa soltanto che bisogna sostituire quel compressore che ha finito la sua vita utile eh risulta importante eh saper leggere la targhetta questa è una targhetta tipica dei nostri compressori eh questo è un compressore a pistone ma diciamo ricalca un po' anche lo stile che abbiamo sui compressori a vite e le cose importanti diciamo sono l'indicazione del modello che tipicamente questo è un V eh venticinque e settantuno Ypsilon eh è di facile lettura perché diciamo che eh il V è l'indicazione del modello in questo caso un quattro cilindri con pompa dell'olio venticinque sono i cavalli del motore nominale a cinquanta hertz quindi sappiamo che questo compressore ha venticinque cavalli semplicissimo secondo numero è il displacement nominale eh a cinquanta hertz in espresso in metri cubi per ora quindi settantun metri cubi ora Ypsilon vuol dire che è equipaggiato comunque adatto per funzionare con olio POE quindi soltanto leggendo il nome del compressore sappiamo che questo è un quattro cilindri con venticinque cavalli e settantuno metri cubi ed è eh stato eh studiato per funzionare con olio POE quindi sappiamo già che per esempio nel circuito frigorifero c'è dell'olio POE sicuramente quindi se poi dobbiamo andare a sostituire un compresso questo compressore dobbiamo già sappiamo già su che tipologia di compressore dobbiamo orientarci qui dovremmo orientarci circa su settantun metri cubi con venticinque cavalli questo è un compressore di alta quindi che ha un motore con una versione estesa poi ovviamente bisogna vedere col catalogo però eh già leggendo il nome del compressore si sa già è una è un nome parlante sappiamo già dove stiamo andando a parare per la sostituzione poi nel resto della targhetta abbiamo chiaramente la specificazione dei metri cubi sia a cinquanta hertz che a sessanta hertz l'olio eh equipaggiato è proprio specificato in questo caso era un po' sessantotto la varie varie certificazioni in questo caso c'è solo CE ma se per esempio era per il mercato americano per il mercato dell'Arabia Saudita c'erano altri eh certificazione e poi tutta la parte che si riferisce alle ai dati elettrici che per una sostituzione in campo sono fondamentali perché dobbiamo sapere per esempio se la linea che è stata dimensionata è coerente per esempio con l'MRA è la massima eh maximum running amperage cioè la massima corrente prevista di funzionamento per quel compressore che solitamente è il parametro per da cui viene dimensionata la linea elettrica e per esempio anche l'inverte se dovesse essere un compressore alimentato da inverte eh quindi per sostituire il compressore sul campo oltre a eh avere un'idea della del displacement del compressore dei cavalli dell'assorbimento elettrico è necessario diciamo quindi l'analisi che si può fare solo con la targhetta eh è necessario anche orientarsi e capire le dimensioni del compressore capire il posizionamento degli interassi eh dei piedini per capire se eh la modifica che dovremmo fare per esempio sul basamento è di poco conto oppure se magari i piedini nel corso degli anni il nuovo modello magari vent'anni dopo eh i piedini sono diversi quindi dovremmo sapere di che entità è eh la modifica proprio pratica eh sul compressore eh e anche sul lato lato frigorifero dove sono posizionati e che diametro hanno i rubinetti mandata aspirazione perché può essere che eh il circuito frigorifero che abbiamo previsto che era previsto in precedenza non sia adeguato coi diametri eh del compressore che magari eh dal punto di vista della capacità è adeguato però non è adeguato alla al al circuito frigorifero già predisposto quindi bisogna immaginare di fare delle eh delle modifiche eh giusto per fare un un overview eh su software trovate come detto tutti i refrigeranti disponibili diciamo eh attualmente la refrigerazione diciamo quelli classici eh questa è una lista diciamo abbastanza completa anche se non esaustiva eh trovate quindi tutti i refrigeranti chiamati a due L quindi classe di sicurezza due L eh HFO e HFO derivati HFO blend quindi come un due tre quattro Z e un due tre quattro YF e i vari blend quindi R quattro cinque a R quattro cinque quattro C e ehm e simili eh per questa gamma di refrigeranti Frasco diciamo propone eh la serie AXY quindi certificata Atex zona due equipaggiata con olio poi eh questo non vuol dire che per utilizzare questi refrigeranti sia necessario per forza avere componentistica certificata Atex e compressori certificati Atex però per metterci la parte della ragione quindi la parte della della massima sicurezza non sapendo dove il compressore va andrà a essere installato eh proponiamo questa gamma nulla vieta al cliente di in base alla propria analisi dei rischi di non comprare la serie AXY ma di comprarsi la serie standard quindi la serie Y refrigeranti naturali quindi diciamo gli idrocarburi eh con classe di sicurezza A2 e A3 quindi non leggermente infiammabili ma infiammabili o altamente infiammabili come diciamo tutti gli idrocarburi eh a software trovate i dati dell'R290 quindi del propano dell'R600A che è l'isobutano e del propilene eh R1270 per altri idrocarburi come per esempio l'etano abbiamo fatto diverse selezioni speciali però al momento non le trovate a soft essendo applicazioni un po' particolari preferiamo gestirli internamente però volendo possiamo fare selezioni anche di questi per questi refrigeranti la serie da eh vedere è la serie AXH quindi certificata Atex zona due ma non con olio eh POE ma con olio PAG la vera differenza tra la XY e la XH è l'equipaggiamento di olio dal punto di vista dell'analisi dei rischi Atex sono equivalenti diciamo forniscono la lo stesso grado di protezione dall'infiammabilità sempre nel framework del refrigeranti naturali vediamo la CO2 abbiamo due range completi uno per compressori subcritici eh che si chiama SK3 e per compressori transcritici TK e per l'ammoniaca ammoniaca abbiamo la gamma di compressori aperti ATS eh per alta temperatura di condensazione per bassa temperatura di condensazione e compressori a pistoni sempre aperti la gamma C6 ehm diciamo quindi per tutti i refrigeranti che diciamo al momento sono quelli che eh sono considerati di più lungo termine eh in generale hanno tutti un GWP inferiore ai centocinquanta che è la soglia un po' ehm po' per tutte le applicazioni per quasi tutte le applicazioni a parte per alcuni questo diciamo un po' lo spettro dei vari refrigeranti e attraverso il nostro software di selezione potete eh selezionare tutti questi refrigeranti che sono quindi implicitamente approvati per l'uso con questi refrigeranti eh nel software poi vado a conclusione eh per qualche domanda poi posso aprire il software e fare anche selezioni così espresse all'interno del software abbiamo quindi quello che vi ho mostrato cioè le selezioni di base del compressore per le varie applicazioni per i vari refrigeranti un tool dedicato alla call room calculation nel caso vogliate approfondire possiamo vedere nello stand o posso girarvi un eh link su un eh un training su youtube che abbiamo fatto sul nostro canale che parla proprio eh di come utilizzare questo tool quindi partire dal dimensionamento della cella ma proprio dal punto di vista basico quindi sapendo le dimensioni eh più o meno cosa verrà verrà inserito con che frequenza e con che varietà l'isolamento per esempio del lo spessore dell'isolamento della cold room è possibile capire quanto sarà la capacità frigorifera necessaria e il software fa anche il passaggio successivo con consiglia già qual è il compressore adatto per quella cold room quindi non più il compressore adatto al al punto operativo e alla capacità frigorifera ma direttamente il compressore o anche l'umità condensante adatta per quella cold room quindi fa anche il passaggio successivo e un tool dedicato per impianti transcritici CO2 su cui abbiamo investito molto molte risorse e permette di simulare più di trecento cicli diversi CO2 transcritica quindi un booster booster con parallelo con scambiatori interni sia per il surriscaldo del flash cast bypass sia per il surriscaldo dell'aspirazione eh eh quindi diciamo un po' tutta la lo spettro delle applicazioni utilizzate ad oggi per realizzare impianti CO2 e eh permette di fare anche un calcolo stagionale quindi avendo scelto la tipologia di sistema per esempio un booster classico CO2 per un supermercato eh diciamo di medie dimensioni eh avendo definito i vari carichi si può vedere questo supermercato inserito in una logica di eh clima di Milano per esempio e vedere quant'è il COP stagionale vedere quanti sono i kilowattora prodotti eh consumati elettrici consumati da quell'impianto in quell'anno eh campione e vedere per esempio quanto può essere la differenza dello stesso supermercato eh a Milano o per esempio a Palermo o a Zurigo o a Helsinki abbiamo una banca dati di circa un centinaio di città diverse nel mondo ma diciamo più o meno una richiesta possiamo ehm aggiungerle nel senso che è un database eh aperto e facilmente modificabile e quindi si possono inserire dei profili climatici a richiesta eh oppure addirittura potremmo diciamo dare qualche indicazione per inserire un profilo climatico ad hoc cioè avete un profilo climatico magari di un anno che avete stabilito che per i vostri conti per esempio eh dal vostro energy energy manager per esempio il supermercato quello è un anno campione e quindi sapete le le mie temperature medie orarie per quell'anno campione si può inserire direttamente quel profilo climatico all'interno del software e fare la simulazione proprio puntuale cioè non più una simulazione su un anno campione ma proprio su un anno che voi ritenete sia eh quello da tenere in considerazione ecc drive ecc 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 Grazie a tutti.